Sono Claudia, titolare del ristorante al soldato di ventura che si trova nello splendido borgo di Gradara. Ci siamo rivolti a Rossini TV per poter aumentare la nostra visibilità all'interno della regione. Il lavoro è stato svolto in maniera rapida ed efficace, grazie alla troupe che ci hanno inviato molto cortese e molto rapida nel lavoro svolto. Consiglio a tutti di provare questa esperienza con Rossini TV. Buona cucina e ottimi prezzi!